Salve a tutti Kinkifrancio, bentornati in un nuovissimo video di Minecraft. Benvenuti nel sedicesimo episodio della serie. Oggi sono proprio contento perché finalmente si scende di nuovo in miniera. Prima di farlo ragazzi però non dimentichiamoci di dare da mangiare prima alle nostre mucche, che lo so fanno un casino veramente assurdo. Quindi prima diamo da mangiare alle mucche, diamo questi sedici di grano che dovrebbero bastare. Ok perfetto, ci raccogliamo l'esperienza e tutto. E poi andiamo un attimo dai polli, ok? Comunque ragazzi, mentre faccio queste operazioni da contadino, vi dico che sono veramente contentissimo, ma veramente veramente contento di tutto il supporto che state dando al canale. Quindi veramente sono super felice. E comunque vi invito a continuare così, cioè vi invito a iscrivervi, a partecipare, a lasciare un sacco di commenti perché sono davvero davvero contento. Cosa ci faccia questa pecora qui non lo so, ma noi la lasceremo qui, ovviamente, come giusto che sia. Prima di scendere e di prepararci, ovviamente, diamo una controllata al nostro grano, che è tantino, quindi ci metterà tantissimo a ricrescere, ma noi abbiamo tempo, anche perché le mucche, cioè, possono rimanere in queste condizioni. Abbiamo anche un altro stack. Allora, adesso ci prepariamo per andare in miniera. Allora, intanto qui non abbiamo niente di... Ok, la nostra armatura è messa bene, quindi non c'è problema, così come il nostro scudo, che possiamo lasciare qui. Allora, qui possiamo lasciare di sicuro un po' di terra, la possiamo lasciare. Cosa ci serve? Ci serve il legno, assolutamente, io direi uno stack, ok, uno stack di legno io me lo porto sempre, ragazzi, quando scendo e anche, sapete una cosa? Cosa faccio? Un altro po' di stecchetti, ok, così mi sento un po' più sicuro. Allora, possiamo posare... Vediamo qui, la posiamo qui, una lastra, poi possiamo posare... In realtà il pietrisco ce lo possiamo portare? Ah, no, io direi di non portarlo il pietrisco perché tanto poi ne raccogliamo lì, quindi sto facendo tutto insieme a voi. Andesite, la mettiamo qui. Allora, qui mettiamo la terra. Questa no, questa la possiamo sicuramente posare, la mettiamo... Anzi, sapete dove? La mettiamo qui. Ok, non mi era accorto di un altro stack di terra che avevo nell'inventario, perfetto. Allora, il pane, il pane che ci deve salvare questa pagnotta, ovviamente non ce la portiamo giù. Potremmo farci in realtà un archetto, voi che dite? E portarci queste 15 frecce. Io direi, ragazzi, di farlo, di farlo. Prepariamoci subito un bell'arco. Oh, scusate. Ok. Qua, perfetto. In modo tale che siamo pronti. Ok, abbiamo sbloccato anche l'achievement. Perfetto. Allora, le frecce ce le mettiamo qua. Ok. Qua mettiamo a posto questo tronco di acacia. Ok, perfetto. Cosa ci serve? Intanto vediamo se qui abbiamo qualcosa di già pronto. Mi sembra di no. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo, prendiamoci questi 23 lingotti e creiamoci, innanzitutto, io direi un paio di picconi di ferro. Assolutamente questi ci servono, ci servono. Ok. Io direi un altro piccone di pietra. In modo tale che stiamo sempre pronti. Ok. Ovviamente la pietra l'ho posata, mi sembra anche giusto. Ok. Ok, scusate, c'è la moto che passa ovviamente mentre io registro il video, perché è una costante. Ok, quindi questo sarà l'angolo dei picconi, facciamo così. Ok, le torce vanno bene, 64. Il secchio d'acqua che ce l'abbiamo sempre a portata di mano, va benissimo. Io direi questa spada di lasciarla in questo modo. La palla, lascia. Abbiamo tutto quello che ci serve in realtà. Io direi ovviamente di posare il ferro e poi, ragazzi, non ci serve nient'altro. Secondo me siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. Sta calando la notte, quindi ovviamente io preferisco scendere in miniera di giorno. Quindi innanzitutto vi faccio vedere dove scendiamo in miniera. Non qui, ok, non qui, anche se sarebbe un buon posto, però avevo segnato, l'avevo segnato con un... Eccolo qua. Ok, avevo segnato questo spot che secondo me è anche carino. Quindi ovviamente partiremo di giorno, ok? E se non ci piace cambiamo, però intanto è una piccola esplorazione che secondo me non guasta. Adesso andiamo a dormire e poi scendiamo. Io direi, ragazzi, che a livello di cippo 61 bistecche, secondo me, sono abbastanza. Perché dovete contare che mangio, mangerò ogni volta che scenderanno a 3 i cosciotti. Cioè meno 3 cosciotti, quindi a 7. In modo tale che comunque, in modo tale da risparmiare. Quindi vediamo un po', vediamo un po'. Ok, qui 15 frecce, ragazzi, dovrebbero bastarci tantissimo. Voi che dite, ne prepariamo altre prima di partire? Abbiamo 7 più come 38 selce. Sapete una cosa? Cedo la tentazione un attimo e ne preparo un altro po'. Giusto? Ok, dai. Va bene così, va bene così. Ok. Ho fatto un casino con le piume, però va bene. Ok, ragazzi, va bene, va bene. Possiamo partire. Ok. Speriamo che sia uno spot giusto. Ok. In modo tale che magari ci porti anche fortuna. Questo uovo lo lanceremo. Q. No, scusate. Ho sbagliato, sbagliato. Ok, niente. Ok. Intanto ci riprendiamo questo. Tantissimo. E magari mettiamo un segno. Quindi mettiamo questa qui, qua. Magari facciamo un pillar. Voi che dite? Ok. Almeno così ci accorgiamo che... Ok. Mettiamo le torce qua. Perfetto. Ovviamente poi ci occupiamo della... Della salita, eh. Ai. No, 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 no. Aspettate. Intanto bellissimo il mio eye. Perché io sento il dolore nei videogiochi. So che può sembrare strano, ma... Uh. Così, subito al primo colpo? Me lo dici così? Ok. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Comunque ho fatto benissimo, ragazzi. A farmi più... Più frecce, eh. Ho fatto veramente bene. Ok. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti. Già vedo del ferro. Carbone. Ok. Creeper, creeper, creeper. Attenzione, raga. Attenzione. Ok, perfetto. Mi ha fatto fuori tutto il carbone. Bastardo. No, non si dicono queste cose. Non si dicono queste cose. Ok. Va bene. Perfetto, ragazzi. Per adesso continuiamo, eh. Poi andiamo... Uh, mi ha lasciato un tocchettino di carbone. Che adesso andrò a prendere. Che gentile. Solo uno. Gentilissimo, proprio. Ok. Il carbone è importante perché comunque mi serve per... Rifare le torce. Ok. Qui ne abbiamo altro. Abbiamo altra roba qui. Beh, continuiamo. Assolutamente. Qui abbiamo del rame. Che è inutile. È inutile, inutile, inutile. È inutile. Più ferro che carbone. Che ovviamente non è... Non è una cosa ottima. È un po' un problema. Quindi... Ok. E ovviamente prima consumiamo questo... Questo piccone di pietra. Ok. Il ferro però in realtà lo potremmo raccogliere anche con... Aspettate che vi metto un po' di luce. Perfetto. Lo potremmo raccogliere anche col piccone di ferro appunto. Però... Già che c'è... Prima ci consumiamo questo e poi... Pensiamo all'altro. Allora... No, no, dai. Le lascio queste torce... Torce, scusate. Anche per capire dove sono passato. Allora, ci raccogliamo... Dov'è? Ecco qua il carbone. Ok. Comunque io penso che dovresti sentire molto di più... Rispetto agli scorsi gameplay in caverna. Perché appunto ho alzato il volume come vi avete richiesto. Quindi... Non ci dovrebbero essere problemi di audio che magari... Non si sente quando raccolgo i minerali. Quindi sono contento. Ok. Qua abbiamo trovato un bel filotto di carbone. Quindi sono contento. Abbiamo trovato... Della ghiaia. Ok. Almeno qui. Vediamo un attimino. Ne raccogliamo un po'. Magari ci esce della selce. No. Perfetto. Vabbè. Poi ci liberiamo l'inventario dopo, successivamente. Prendiamoci questi uno, due, tre, quattro cubettini di ferro. Ok. Avevo sentito il... Lo scoppio imminente del creeper. Quindi... Ok. È stata una buona idea ragazzi quella di dirmi... Guarda Francio alza il volume. È stata veramente una buona idea. Allora. Qui si scende. Dobbiamo fare attenzione. Aspetta che qua... Ok. La mettiamo qui. Quindi qua c'è una cascata d'acqua. Qua si scende. Qua c'è del ferro che ovviamente ci serve. Lo dobbiamo recuperare. Ok. Recuperiamo intanto questo ferro perché è veramente utile. Ok. Stiamo attenti ovviamente perché potrebbero spuntare mostri, creeper e roba varia veramente dappertutto. Dappertutto, dappertutto, dappertutto. Qui si scende veramente un sacco. Mamma mia. Ok. Eh 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 eh. Lo so. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Ehi. Ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo. Ok. 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 Morto. 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 C'è tanto ferro? Tanto. Tanto ferro? E mi sembra un bel posto eh. Mi sembra un bel bel posto. Dobbiamo stare attenti però. Ok. Uh. Quanto ferro. Quanto ferro. Teniamolo a distanza. Perfetto. Quanto ferro. Io direi di fare in questo modo ragazzi. Ci raccogliamo intanto il ferro quindi quello che ci serve. Poi mangiamo questa pagnotta perché non possiamo rischiare di rimanere senza vita. Senza recupero vita. Assolutamente. Ok. Poi ci raccogliamo quel ferro lì che comunque ci serve. Perfetto. Torcina qua. Ok. Abbiamo trovato dell'oro. Molto bene. Molto bene. Ne ho un po' a casa però ovviamente non fa mai male dell'oro in più. Perfetto. Ricopriamo questa terra. Anzi facciamo pure una cosa del genere. Immontare ed avere uno stack pieno. Ok. Perfetto ragazzi. Ricopriamo l'oro. Oh ne abbiamo trovato pure un... No un bel po' però va benissimo così. Ok. Scusate se parlo di meno in questa fase però. Mi sembra più sicuro. Perché comunque sono più concentrato. Siamo in pericolo di vita in questo momento. Quindi vorrei tappezzare tutto di torce come giusto che sia. Non stiamo trovando il carbone. E questo è veramente veramente preoccupante. Oh perfetto. 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 Vediamo se viene lui da questa parte. Ok. Sono contento se viene qui perché almeno consumiamo meno fresco. Facciamolo tirare. Ok. Adesso lo sconfiggiavo senza problemi raga. Certo mi sta rovinando il... Mi sta rovinando lo scudo. Vabbè. Però non è nemmeno un problema. Abbiamo trovato tantissimo ferro raga. Ma tantissimo. Bene 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 bene. Mi piace questa cosa. Mi piace. Ok. Andiamoci a recuperare intanto il ferro che abbiamo trovato da queste parti. Ok. Vediamo un po'. Dov'era il ferro che abbiamo trovato? Aspettate. Ok. No. Qui siamo all'inizio. Non mi farei saltare tutti in aria. Di pre... Ok. Mi ha fatto saltare tutti in aria. Uh redstone. Redstone. Questo è utile per la bussola. È utile per la bussola. Dobbiamo ovviamente rifare tutto questo lato. Perché se no... Non andiamo bene. Ok. Ovviamente mi copre la redstone. Però spero di ricordarmi che là c'è della redstone. Ok. Me ne ricorderò. Spero di ricordarmelo. Ok. Quante frecce abbiamo? Abbiamo 20 frecce. Quindi molto bene. Uccidere quegli scheletri ci ha fatto recuperare un po' di frecce. Ok. Era qui il ferro a terra. Ecco perché non l'ho visto. Perfetto. Ok. Quanto ferro abbiamo fino adesso? 21 pezzi di ferro. Molto bene. Sapete una cosa? Qui io direi di prendercelo un secchio di lava. Cioè la lava io direi di prenderla tantissimo. Ok. Piano piano scendiamo perché potrebbero esserci altri mostri ovviamente. Qui. Abbiamo trovato il carbone. Molto bene, molto bene. Mettiamo le torce e stiamo attenti. Ok. Qui è un po' più resistente ovviamente. Però va bene lo stesso. Ci serve tantissimo il carbone. Ok. Spero che non mi arrivi nessun mostro e mi uccida da dietro. Però. Speriamo, speriamo. Ok. Ovviamente la concentrazione è al massimo perché queste caverne sono pericolosissime. Non sono come le vecchie miniere di Minecraft dove tu scavavi tranquillamente. Non ti succedeva nulla e l'unico pericolo era la lava. Qui invece hai... Mamma mia. Mamma mia. Mettiamo in sicurezza questa zona subito. Subito proprio. Proprio subito. Ok. Qui invece hai mille problemi, mille cose da guardare. È davvero difficile, difficile, difficile. Ok. Perfetto, perfetto. Stiamo attenti ragazzi, stiamo attenti. E facciamo attenzione soprattutto a non perderci. Perché è quello il pericolo. Che poi uno si perde. E ovviamente finisce male se si perde. Ok. Raccogliamoci tutto il ferro possibile. Che è davvero tantissimo, tantissimo. È strano perché ho quasi difficoltà a trovare il carbone piuttosto che il ferro. Carbone quanti ne abbiamo adesso? 57. Il ferro adesso 36. Quindi quasi lo stesso quantitativo. Ok. Lì c'è della redstone. Però veramente... Wow. 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 Torniamo un attimo nel punto di partenza. Ok. Allora. Facciamo una cosa ragazzi. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Qui dove ci sono le nostre fantastiche scale. Quindi ecco qua le scale. Perfetto. Dove ci sono le scale che ci portano poi in superficie. Ci facciamo una piccola base. Ok. Quindi qui, lì da dove siamo arrivati. Perfetto. Qui ci facciamo una piccola base. Ok. In modo tale che possiamo farci quello che ci serve. Lo allarghiamo anche di un altro. Perfetto. Ok. Perfetto. Va bene ragazzi. Facciamo così. Perfetto. Allora. Mettiamoci intanto il banco da lavoro. Poi la fornace. Ce ne dobbiamo fare almeno un'altra. Io direi. Almeno un'altra ce la facciamo fornace. Ok. E io non direi di consumare il carbone in questa fase perché è davvero prezioso per le torce. Quindi direi di fare 10 qui e 10 là. Per adesso facciamo in questo modo ragazzi. So che non è tanto sostenibile perché comunque il legno pure è prezioso. Però intanto questi pezzettini di ferro verranno cotti con il legno. Poi userò il carbone. Sempre per risparmiare torce appunto. Ce ne facciamo. L'equivalente di altri. Ok. Vedete come se ne va via il carbone. Madonna ragazzi. Ma che cavolo. Ok. Ok. Va bene. Devo stare calmo. Adesso è arrivato il momento di chiudere il video ragazzi. Perché stiamo rischiando veramente veramente tanto. Chiudiamoci col pietrisco per adesso qua. Ma proprio tantissimo. Chiudiamoci adesso. Ok. Qui almeno penso di essere abbastanza al sicuro. E niente ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Minecraft. Se vi è piaciuto il video mettete like. Iscrivetevi al canale. Sono veramente emozionato per essere tornato in caverna. Stiamo già trovando veramente tantissima roba. Poi prenderemo la redstone. E anche i lapislazuli. Perché il creeper ha fatto esplodere tutto. E quindi niente. Voi continuate ad iscrivervi. Manca sempre pochissimo ai 300 iscritti. Quindi dai ragazzi manca poco. Iscrivetevi così festeggiamo i 300 iscritti. Sono veramente alle stelle per questa cosa. E niente. Vi ringrazio come al solito tutto il supporto. E noi ci vediamo al prossimo video di Minecraft. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.